Per troppo tempo in passato avete usato internet come un importante vettore per la vostra propaganda, noi abbiamo visto i vostri giornali, video, registrazioni su molte piattaforme, internet e per la libertà di parola non per l'odio, voi avete attirato la nostra attenzione eseguendo di recente azioni indirizzate a tutto il mondo, questo compreso uccidere persone innocenti, anche diversi musulmani in nome di Allah, i musulmani sono le prime vittime di questi vostri folli gesti, non possiamo nemmeno parlare di voi come barbari, i barbari almeno avevano un obiettivo, non abbiamo paura, siamo arrabbiati, siamo determinati e non torneremo indietro per via delle vostre minacce, le legioni aumentano, sono organizzate, identificano, fanno cadere e riportano in questo momento la vostra propaganda in tutto il mondo in tutte le lingue, noi siamo liberi, nessuno ci dice cosa pensare, noi siamo uno, noi siamo uniti, noi siamo legione, noi siamo determinati a portare a termine questo compito a tutti i costi, in realtà un team internazionale di hacker, dell'asia orientale, del vicino oriente, dell'europa occidentale e dell'america hanno unito le forze insieme ad anonymous, noi abbiamo trovato la più grande propaganda nella vostra causa, coloro che sono coinvolti in questi messaggi saranno incorniciati, noi siamo un'idea e non potete uccidere ciò che non vive, il lavoro è iniziato, molti dei vostri siti web sono ora down e abbiamo identificato i vostri programmatori principali, tutta la vostra rete è down, insieme a molti dei vostri account twitter, profili facebook e di altri social network che utilizzate per la propaganda sono down, questo è solo l'inizio, noi siamo determinati, internet non è per la vostra propaganda, tik tok, tik tok, il tempo è scaduto, jihadisti, stiamo arrivando, vi stiamo chiudendo su voi stessi, questo è l'inizio della fine, noi siamo anonymous, siamo legione, non perdoniamo, non dimentichiamo, aspettateci. Grazie a tutti